Genitori quasi perfetti, iniziamo da Anna che è la protagonista di questo film corale, reduce da questo meritatissimo nastro d'argento. Tu sei questa madre frustrata, diciamo così, che è alle prese con la scoperta di un inizio di ambiguità sessuale del proprio bambino che verrà fuori all'interno di questa festa. Allora, è bello come questo lavoro ti offre l'opportunità di confrontarti con degli argomenti e con delle riflessioni che magari invece non avresti fatto. Io non mi sono mai chiesta se il mio figlio fosse omosessuale che cosa succederebbe, è una domanda lecita, non è ipocrita, però è una domanda lecita. Dopo essermi interrogata a lungo su questo film mi sono detta semplicemente come una mamma, io ovviamente lo amerei lo stesso, ma non è così scontata la risposta. E ti ripeto, proprio perché non sono una donna ipocrita, te lo dico, perché mi sono poi confrontata con tanti amici molto open mind, ma che poi in realtà la risposta non è sempre la stessa. Perché è un argomento complesso, a volte ti dico no perché mi dispiacerebbe se fosse, capito, poi un domani non compreso, non accolto. Invece il problema siamo noi, siamo noi che siamo giudicanti e che ci, tra virgolette, 12.000 virgolette, ci dispiacerebbe avere un figlio omosessuale per qualche maniera, perché quando ce l'hanno gli altri è più semplice, quando ce l'hai tu in casa invece è molto più complesso. Quindi è un argomento, insomma, interessante che non è mai stato affrontato veramente bene all'interno di un film e neanche qui lo facciamo poi così bene. È un elemento del film, non è l'elemento del film, è una delle tante domande, è una delle tante interrogativi che ti pone questo film. Però ti dico, per me è stato abbastanza centrale, insomma, mi ha toccato parecchio. Però penso che in generale tutto il film sia un bellissimo spunto di riflessione sull'essere genitori oggi, sull'essere dei genitori 2.0, sul cercare di fare sempre bene e sull'essere fallibili e sulla risorsa che invece è essere fallibili. E appunto, parlando dei genitori 2.0 e sul tema delle sessualità, c'è il personaggio di Elena, che è questo personaggio omosessuale che viene un po' usato quasi come trofeo, come fenomeno un po' da baraccone, seppur volendo farlo passare come normalità di facciata dagli altri genitori. Giorgia fa tutto quello che è nelle sue possibilità per integrarsi, per apparire il più normale possibile e quindi anche per nascondere, senza grosso successo, il fastidio che consegue dall'essere invece messa sul piedistallo su cui lei non voleva assolutamente salire, perché appunto vorrebbe semplicemente integrarsi. La verità è che sente quello che forse sente anche lo spettatore, cioè sente il disagio di questa messa in scena, del continuo tentativo intanto di correggersi e di dire più o meno tutti a turno che cosa bisognerebbe fare in varie forme, ogni personaggio lo fa in maniera diversa e sente quanto è difficile essere se stessi, lo sente e si chiude un po', probabilmente già non partiva estroversa insomma, fino ad arrivare al punto di tradirsi nel tentativo di partecipare, di condividere questa benedetta condivisione forzata di qualunque è un momento di gioia o no, fa l'errore fondamentale che è quello di smettere di avere quel ruolo che aveva prima, cioè essere se stessa senza cedere alla danza. E poi abbiamo Paolo che in coppia con Lucina Mascino è questo vegano cinefilo, un po' saccentino che poi combinerà anche qualcosa che non sveleremo. Anche lui è profondamente velato, nel suo caso è mascherato dietro un'apparenza di persona affabile, ne abbiamo conosciute tante, di persone che in qualche modo dietro questa ossessiva gentilezza, questo mettersi a disposizione degli altri, nascondono o in alcuni casi una grande rabbia, nel suo caso probabilmente una repressione anche sessuale che gli viene nel rapporto con la moglie che non si sa perché ha deciso che doveva decidere tutto lei e io l'ho accettato in qualche modo. Quindi insomma sì, c'è una tipologia umana che purtroppo nella nostra società è molto presente. Va bene che lui si sfoghi, vanno bene gli sfoghi di tutti i personaggi, sono accettabili i momenti in cui si viene fuori per quello che si è, però magari ci si poteva pensare prima. Ditemi un motivo per cui venire a vedere al cinema genitori quasi perfetti. Sicuramente perché si ride, perché comunque è un film che fa molto ridere ma che smaschera il ruolo del genitore e tanti si vedranno rappresentati su questo film. Io penso che questo film sia sufficientemente complesso e che quindi valga la pena di essere visto perché nonostante arrivi in maniera diretta è complesso. Si riderà molto, riderete molto nel vederlo e uscendo poi verso la fine vi renderete conto che la risata vi si sta ritorcendo contro fondamentalmente. E un'ultimissima cosa in chiusura doverosa per Paolo, un ricordo di Mattia Torre con cui tu hai collaborato in televisione e in teatro, tantissimo. Ma Mattia lo ricordiamo tutti adesso venerdì all'Ambra e mi riesce difficile perché era diventato un fratello per me e per tutte le persone, le poche persone di cui si era voluto circondare nel momento della sua malattia. Non riesco a dire molto sinceramente. In questi giorni guardo sempre indietro, per cui mi ritrovo a scrollare i messaggi che ci siamo mandati e ogni volta era una sorpresa. Alle 8 del mattina mi scriveva delle cose esilaranti e terribili. Ci mancherà. Perdiamo molto, perdiamo tutti molto. Perdiamo.